E adesso come abbiamo detto, perché abbiamo un'unica parola, come sempre queste reti incominciano a cadere, perché non c'è altro modo possibile, oggi se ne deve andare per sempre dalla nostra terra, e queste reti anche oggi fanno destinata a cadere. Andate a casa vostra! Anche no, sei violenti individe di tanti da noi, e non succederà nulla, perché noi siamo partidici come sempre! Piegateli raga, piegateli! Via la mafia dall'Italia! Via i corrotti del Parlamento! Via la mafia! Via la mafia! Però davvero, se giri lo striscione giù qua, io non allungherei proprio! Passiamo a continuare a piacere! Vai ce le respiriamo! Il viere! Buongiorno! Felizini raga! Chiторica! Eguilac ... M ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.